Musica Dopo due ore, tre ore anche di sole e non sono molto in forma per parlare però se qualcuno mi fa una domanda posso anche rispondere Benissimo, allora i tuoi progetti futuri Ma sono in procinto di fare una bella trasmissione televisiva che andrà in onda sulla 7 a settembre e mi sto preparando perché c'è bisogno di una preparazione perché è una gara tra VIP e quindi mi devo preparare però siccome mi hanno detto di non parlare con nessuno lo lasciamo a punto interrogativo poi ci sono sempre in programma di dischi delle ospitate televisive anche col mio amico e promoter Piero Chambretti quindi sarà un bel autunno però per questo momento vorrei godermi un po' l'estate in questo momento lo sto facendo benissimo insieme ai miei amici Alessandra, il cagnolino, Massimo Alessandra 2, la figlia bellissima e il grande Daniele Caramagna che mi sta inquadrando in questo momento prossimo bagno o prossimo disco prossimo disco sicuramente ho fatto questo disco ultimamente con il dottor Felix noto vocalist di Giambretti Knight abbiamo fatto un inno contro la droga in versione House Dance che sta andando in onda molto spesso su MTV in tutta Europa quindi per me è una grande soddisfazione perché abbiamo messo sotto forma di House Music un inno veramente antidroga in versione House quindi sta letteralmente impazzando nelle discoteche di tutta Europa e per me è una grande soddisfazione grazie di Gianni Cetto grazie Daniele Caramagna funky come on everybody ti lascio con un mio slogan abbazzo la droga viva la vita viva la pizza margherita inquadrami il cane viva la pizza margherita viva la pizza margherita viva la pizza margherita